Con i funghi? No mamma Posso tenere qualcosa? Si può essere Si può essere qualcosa Forse Possiamo essere Come il zio No Katarina Te l'ho detto che non si può Perchè mamma Perchè? Perchè non siamo qui Cosa mamma? Eh? No Cosa? Eh domattina vado a lavorare Sì Domani mattina vado proprio a lavorare Perchè è impossibile essere con Mattia Poi no 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 Vieni Katarina È impossibile essere con Mattia No Sì Domati che costruisco il gollo a mangiare Ci fai pasta col tonno? Sì Basta col tonno Sì Basta col tonno La ne fa la Katerina domani Grazie.